Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, bentornati per quelli che mi seguono già Riprendiamo con il tutorial di Natale Ed oggi volevo mostrarvi come creare una simpatica casettina in feltro da appendere all'albero di Natale oppure dove più vi piace Partiamo subito Ci serve un rettangolo di feltro grosso, spessore 3 mm, dimensione 15x10 cm Darò ora la forma a casetta Quindi segno il centro nella parte superiore Vale a dire un punto a 5 cm E poi sopra e sotto Nuovamente segno 5 cm Adesso posso andare a fare questo taglio Partendo dai due punti segnati Creerò la casetta Procedo e taglio Adesso aggiungiamo anche i bordi Su tutto il perimetro Io li ho già preparati Sono dei piccoli rettangolini Tutti quanti hanno la larghezza di 2 cm Vi do le misure Ne serve un pezzo 2x9 Due pezzi più piccoli Due pezzi più piccoli Due per 6,5 cm Altri due più lunghi Due per 9,5 cm Vi ricordo che comunque trovate tutte le misure e i riferimenti qui sotto nell'info box Procedo con l'incollaggio Inizio dai due più lunghi Dovrò andare a posizionarli in questo modo Uno parte per parte Colla a caldo Soltanto sul bordo inferiore Procedo stando al limite del feltro Stessa cosa dall'altra parte Colla sul bordo inferiore Posiziono Il rettangolino medio Dovrò andare ad infilarlo fra i due bordi In questo modo In questo caso Colla sia nella parte inferiore Sia lateralmente Procedo E applico Se c'è qualche imperfezione Come nel mio caso Che adesso ho fatto di fretta Nessun problema Tagliate via Quello che è in eccesso Benissimo Prima di incollare i due bordi superiori Applico l'appendino Un pezzo di gavetta fina colore beige Circa 25 cm Unisco i due capi Li incollo Sulla punta Facendo Potendo sporgere Giusto il necessario Poi comunque Andremo a nasconderlo Con il tetto Ed il relativo fiocco Benissimo Concludo Con i due rettangoli Più piccoli Nel primo Colla Nella parte inferiore E un lato Posiziono L'altro Colla nella parte inferiore E i due lati Voi siate più precise Io adesso sto andando via veloce Posiziono E faccio fare presa E faccio fare presa Benissimo La nostra casetta È pronta Passiamo alla decorazione Allora Utilizzerò Queste simpatiche Questi simpatici soggetti Natalizi In legno E sughero Effetto sughero Anche dorato Li posiziono Vi faccio prima vedere Per creare una sorta Di paesaggio Innevato Ecco qua Vi consiglio sempre Di posizionare Le decorazioni Prima di incollarle Così almeno visivamente Riuscite ancora a capire Se ci siamo Oppure no Incollo Eccoci qua Incollo anche gli altri In questo caso Le decorazioni Sono double fast Nel senso che C'è sempre una parte naturale O marrone E l'altra parte È tipo Lavorata Può essere suro Oppure tutta quanta Dorata Poi vi faccio vedere Anche le altre ipotesi Come al solito Vi ricordo che trovate I materiali Che utilizzo Nei miei video Sul nostro e-commerce Ediamantashop.com Con un po' di ovatta Da imbottitura Creo l'effetto neve E vado ad incollarla Qui nella parte inferiore Giusto un goccino di colla Applico E cerco di non andare a coprire Totalmente le decorazioni Ovviamente Quindi La spingiamo un po' Verso il basso Concludo per richiamare il bianco Con due fiocchi di neve Ce ne serve Circa 20 di lunghezza Creo un fiocchetto Ripiegato su se stesso Piccolino In questo modo Lego al centro Giusto con un po' Di nastrino di raso Quanto basta Giusto per legare E fare la legatura Insomma Due nodi Taglio via Quello che non serve Apro il fiocchetto Per dare una forma bombata Vado ad incollarlo Qui sopra Nella parte Nella punta Della mia casetta Colla E applico Al centro Ecco qua Concludo con Un po' di gavetta Fine Sempre Mi sa che non ho messo Abbastanza colla Portate pazienza Eccoci qua Adesso dovrebbe Restare Le cose fatte di fretta Vedete voi Poi mi raccomando Fatele con calma E siate più precise Possibile Benissimo Adesso Con un po' di gavetta Sempre colore beige Circa 35 cm Faccio un fiocco al volo In questo modo Metto a misura Faccio i due nodi Ai capi Quindi uno E due Taglio via Quello che non serve E vado ad incollare Questo mio fiocchetto Sopra al nastro Per chiudere il nodo Procedo E applico Apriamo bene il fiocchetto Che adesso dovrebbe aver preso forma Ecco Benissimo Direi che ci siamo Ecco qua Il nostro paesaggio Innevato È terminato Pronto per essere appeso Io ho preparato anche Altri colori E varianti Come al solito Adesso ve le mostro La versione beige Con un fiocco verde E tutti quanti I dettagli dorati Più sul naturale Quindi corteccia E tutto quanto In tinta beige Oppure sul verdino Con il pupazzo Scuro Quindi marrone Fiocco abbinato E invece la base verde Nuvolata Bene ragazzi Spero che vi sia piaciuta La mia idea Vi ricordo che trovate I materiali che utilizzo Sul nostro e-commerce Il diamante shop.com Mentre tutte le misure Ve lo ripeto Qui sotto nell'info box Grazie Ciao a tutti E alla prossima